Salve a tutti. Questo spot ha lo scopo di sensibilizzare la comunità circa i valori del volontario. Il lavoro è stato realizzato da Alfonso Gallucci che sarei io, Francesco Altomare, Giuseppino Allarocca, Tommaso Scarpino e Domenico Tulino della sede di Cosenza, progetto Chiara Corbella Petrillo. Come volontari del Centro Studi Futura impegnati nella realizzazione del progetto di Chiara Corbella Petrillo, sede di Cosenza, abbiamo realizzato questa campagna di comunicazione per trasmettere il valore del volontariato e del ruolo dei volontari attraverso la realizzazione dei vari progetti messi in campo. Abbiamo creato questo slogan proprio per far capire quanto sia bello e gratificante fare il volontario, che è un'esperienza che arricchisce dal lato umano e professionale, un'esperienza che insegna a vedere il prossimo come una sorta di estensione di noi stessi e che ti porta ad essere sempre più propenso all'aiuto. Di seguito abbiamo anche stilato una relazione che raccoglie i dati e la storia sulla nascita e lo sviluppo del fenomeno del volontariato in Italia e anche in Europa, studiando con particolare attenzione alcune realtà molto importanti come la Croce Rossa italiana, il servizio civile e la protezione civile. In Italia il volontariato ha tre grandi tradizioni, una ecclesiale e cattolica, legata all'opera di evangelizzazione della Chiesa, fondata sul congetto di Pietas Cristiana, e tuttora molto viva. Accanto a questa si sviluppa fin dall'Ottocento un'intensa attività di volontariato, di tradizione operaia e socialista. Infine una tradizione liberale molto ricca, successivamente poi scomparsa. Andiamo avanti. La fine degli anni Sessanta segna il declino di un modello prevalentemente filantropico dell'assistenza e vede il diffondersi di un volontariato che, attraverso progressive puntualizzazioni, diventerà vero e proprio soggetto politico, riconosciuto anche dalla successiva produzione legislativa. È in questi anni che si diffonde la consapevolezza che, per tutelare, diciamo, deboli e bisognosi, non bastano solo azioni di carità e benevolenza, ma necessitano anche interventi di affermazione dei diritti e dei doveri di tutti i cittadini. Le attività di solidarietà trovano un nuovo spazio grazie anche agli articoli 2 e 3 della Costituzione, che stabiliscono l'assegnazione originaria della funzione della solidarietà alla comunità, mentre affidano alla pubblica amministrazione e l'organizzazione del mondo di assolvere a tale funzione. Ad una prima fase, in cui il volontariato era chiamato a rispondere a situazioni di emergenza sociale, segue quindi una seconda fase, in cui gli obiettivi diventano quelli di portare i cittadini alla consapevolezza dei propri diritti e stimolare le pubbliche amministrazioni a compiere le proprie funzioni in modo efficiente. Nella seconda metà degli anni 90 abbiamo assistito in Italia all'esplosione del cosiddetto terzo settore, la cui funzione principale è diventata quella di contenimento dei costi da realizzarsi attraverso il conferimento di obiettivi pubblicamente rilevati e il finanziamento dei servizi tramite il contratto. Si è infatti affermata anche in Italia quella che viene definita cultura del contratto, una logica di relazione basata su accordi di acquisto di servizi prodotti dal terzo settore dalla parte delle pubbliche amministrazioni. Croce Rossa Italiana La Croce Rossa Italiana è un'organizzazione di volontariato, già associazione in promozione sociale in precedenza, componente della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa internazionale e operante nel territorio italiano. Nata nel XIX secolo e divenente pubblico con R.D. 7 febbraio 1884, numero 1243, con il decreto legislativo del 28 settembre 2012, numero 178, trasformata in ente diritto privato e riconosciuta come società volontaria di soccorso ed assistenza, in virtù delle convenzioni internazionali ed in forza delle nazioni disposte tra le sue componenti per l'assolvimento dei compiti di emergenza del tempo di pace e guerra di un corpo militare ausiliario delle forze armate, ovvero il corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana. Quest'ultimo è composto da un contingente di personale in servizio e da personale in congelo, arruolato su cappellani, intermieri, autisti, soccorritori, logisti, che viene richiamato periodicamente per fare addestramento. I volontari della Croce Rossa Italiana, secondo le proprie, diciamo, inclinazioni, possono svolgere tutte le attività istituzionali dell'associazione stessa nel rispetto dello statuto Croce Rossa Italiana ed in linea con gli obiettivi strategici dell'associazione stessa e con la strategia della Federazione Internazionale delle Società Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. I principi fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e quindi anche della Croce Rossa Italiana, come dispone l'articolo 1 dello statuto, sono umanità, nata all'interno di portare soccorso senza discriminazione su feriti, sui campi di battaglia, la Croce Rossa, in campo internazionale e nazionale, si adopera per prevenire e lenire in ogni circostanza le sofferenze degli uomini per far rispettare la persona stessa umana e progettarne, diciamo, la vita e la salute. Così facendo favorisce la comprensione, diciamo, reciproca, detta amicizia, la cooperazione e la pace duratura fra tutti i popoli. Imparzialità. La Croce Rossa non fa alcuna distinzione di nazionalità, di razza, di religione, di condizione sociale e appartenenza politica. Ciò, tutto ciò. Si adopera solamente per soccorrere gli individui secondo le loro sofferenze, dando la precedenza agli interventi più urgenti. Andiamo avanti. Poi abbiamo la neutralità. Neutralità. Che cos'è? Al fine di conservare la fiducia di tutti, si astiene dal prendere parte alle australità e, in ogni tempo, alle controverse in ordine politico, razziale, religioso e filosofico. Indipendenza. Indipendenza sarebbe il movimento indipendente, diciamo, delle società nazionali, che, pur se ausiliare delle loro attività umanitarie ai loro governi e sottomesse alle leggi che reggono i loro rispettivi paesi, devono sempre conservare la loro autonomia in modo da poter agire in qualsiasi secondo i principi del movimento stesso. Volontarietà. La volontarietà, la Croce Rossa, è un'istituzione di soccorso volontaria e disinteressata. Unità. In uno stesso paese può esistere una ed una sola società di Croce Rossa. Deve essere aperta a tutti ed estendere la sua azione umanitaria a tutto il territorio. Universalità. La Croce Rossa è un'istituzione universale in seno alla quale tutte le società hanno uguali diritti e il dovere di aiutarsi reciprocatamente. Protezione civile. Andiamo avanti. La storia della protezione civile in Italia è strettamente legata alle calamità che hanno colpito il nostro paese. Terremoti, alluvioni che hanno segnato la storia e l'evoluzione del nostro paese contribuendo a creare quella coscienza di protezione civile, diciamo. Le protezioni civile. Nella fase immediatamente successiva ad una grande catastrofe in quale le innovazioni, le decisioni, le scelte sono favorite dal clima di forte emozione che dopo ogni disastro coinvolge l'opzione, l'opinione pubblica e le istruzioni. Il concetto di protezione civile come espressione di solidarietà, spirito di collaborazione e spesso civiche, diciamo che ha ragione lontane. La protezione civile è l'organo nazionale che si occupa della prevenzione, della gestione e del superamento degli eventi straordinari. Diciamo, più nel dettaglio include tutte le strutture e le attività messe in campo, diciamo, dallo Stato e dal Governo a tutela dell'integrità della vita, dei beni, dell'ambiente, dai danni o dal pericolo di essi causati da catastrofi, calamità naturali e altri eventi calamitosi. Nel 1981, per la prima volta, sono stati individuati in Italia agli organi ordinari, ministro dell'interno, prefetto, commissario di governo e della Regione, e il sindaco per finire. È straordinaria della protezione civile, commissario straordinario e sono state disciplinate le varie competenze, il ruolo più importante della gestione dell'emergenza è stato affidato ad ogni organo statale, ossia prefetto e commissario di governo. Nella sua struttura attuale, la protezione civile ha preso forma con la legge 225 del 1922 e la nascita del Servizio Nazionale della protezione civile. La protezione civile è stata riorganizzata come un sistema coordinato di competenze a cui concorrono le amministrazioni dallo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali, tipo gli enti pubblici, la comunità scientifica, il volontariato stesso, gli ordini e i collegi professionali che è ogni altra istituzione, anche di natura privata. La protezione civile nazionale è composta da Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, quale componente fondamentale della protezione civile, forze armate, forze di polizia, corpo forestale dello Stato, servizi tecnici nazionali, gruppi nazionali di ricerca scientifica, di cui l'articolo 17, Istituto Nazionale di Geofisica e altre istituzioni di ricerca, tipo Croce Rossa Italiana, strutture del Servizio Nazionale, organizzazioni di volontari e Corpo Nazionale Alpino CNSA CAI. Il servizio civile universale, prima noto come servizio civile nazionale, in Italia indica una tipologia di servizio civile che i cittadini possono prestare in modo volontario presso una serie di enti convenzionati dal Dipartimento della Gioventù e del servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che integra nella struttura le funzioni proprie dell'ex Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. Il servizio consiste nel prestare attività svolgendo incarichi di assistenza o di utilità sociale o di promozione culturale. Esso quindi può essere svolto a livello nazionale o regionale in relazione all'ente pubblico che emana apposito bando. L'Ende deve essere ora accreditato presso un albo nazionale tenuto dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. La circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale del 23 settembre 2013 ha stabilito delle norme in tema dell'accreditamento in tema degli enti pubblici. Viene introdotto nell'ordinamento italiano con la legge 772 del 15 dicembre 1972 di cui fa relatore il senatore Giovanni Marcora, inizialmente previsto come alternativa al servizio di leva, previsto esclusivamente per coloro che si fossero dichiarati obiettori di coscienza. Tuttavia la prima regolamentazione effettiva del servizio civile si ebbe però solo con la legge 8 luglio 1998, numero 230, che oltre a dettare una nuova disciplina in tema di obiezione di coscienza istituì l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. Con la legge 6 marzo 2001, numero 64, venne istituito il Servizio Civile Nazionale, qualificandolo con più come alternativa e sostitutivo del servizio di leva obbligatorio. Venne inizialmente avviato in fase sperimentale, riservato esclusivamente per le donne e gli uomini inabili, diciamo, alla leva fino ai 26 anni. Il decreto legislativo 5 aprile 2002, numero 77, che ne regolamentò la disciplina, innalzò anche l'età massima, che anziché di 26 anni fu allora dei 28, a partire dal 1 gennaio 2005. Con questo concludiamo la nostra relazione tramite il progetto Chiara Corbello Petrillo della sede di Cosenza, insieme ai miei colleghi che sto qui di nuovo ad elencare, Francesco Altomare, Giuseppino Larocca, Tommaso Scarpino e Domenico Tulino. Io sono Alfonso Gallucci e auguro a tutti un buon lavoro. Grazie. Grazie.